Mi chiamo Gabri Costa C'è una nuova sfida per voi ragazzi Dobbiamo distruggere nove nemici con il codice panze Mentre tutte le altre sfide sono uguali Ma non sto a ripetervele Possiamo cominciare a fare sto livello Guardate quanto è bello sto codice velocizzante Bisogna fare il cerchio laser Avete capito ragazzi Dovete ascoltarmi cari followers Voi che siete sempre iscritti al mio canale Bisogna fare il cerchio laser Per distruggere queste piattaforme blu Ecco fatto Andiamo Forza andiamo Quando distruggiamo qualcosa Facciamo aumentare il punteggio Bisogna stare attenti a questi cannoni Che sparano proiettili infiniti Meno male che abbiamo il codice velocizzante Con i proiettili Che rimbalzano Ora siamo tornati con questo hacker verde a forma di tartaruga marina Prendiamo la chiave Prendendo la chiave dati possiamo disattivare il firewall Muovendo contemporaneamente la levetta sinistra e la levetta destra possiamo muoverci e sparare Non andate mai in quei vortici rossi Sono troppo pericolosi Meglio non rischiare Mi tocca tornare indietro Perché ho sentito dire che c'è una maschera di Sly che mi sta aspettando Io devo andare subito a prenderla Questi vortici Elettrici Non mi piacciono Meno male abbiamo finito il livello Io vi devo salutare Vi saluto Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace Se la recensione vi è piaciuta Mettete un mi piace Mettete un mi piace Mettete un mi piace Mettete un mi piace